Arrivederci, Alexis. Eccomi! Sì, il mio compito qui è terminato. Vede, professore, noi mettiamo in contatto il mondo degli spiriti con gli umani. Da qualche parte ci sarà sicuramente qualcun altro in questo momento che ha bisogno di noi. Dobbiamo partire per aiutare tutte queste persone. Kuribualato, che cosa c'è? Eh, ma... vuoi che ti segua? Ma questa è la stanza in cui è custodito il deck di Yugi. Ma tu sei... cosa è il nostro duello di diploma? È vero. Tutto è cominciato tre anni fa. Quando ho avuto in dono questa carta, ero all'inizio della mia carriera di duellante. Ho dovuto perdere qualcosa. Il duellante più forte di tutti, a parte te, dici? Sì, d'accordo. Dove... Ma quanti anni saranno passati da allora? Devo dire che non è cambiato poi molto. No, scusami tu, sono Yugi. Ma... ma tu sei... sei Yugi? Possibile che è il più grande duellante? È incredibile. Ecco, vedi, tu mi hai dato questa carta. È per merito suo se sono riuscito ad arrivare qui da te, Yugi. Sono io in persona. Accetta la mia sfida, Yugi. Il tempo si è fermato. Ma certo! Siamo in un varco spazio temporale creato a potta per me e Yugi. Sento una strana energia provenire da te. Già, lo so. L'incredibile energia che sento provenire da quel deck è dovuta all'enorme potere delle sue bestie sacre. Non c'è ombra di dubbio. Mi trovo proprio di fronte al grande Yugi, il padrone del deck più forte di tutti i tempi. Puoi scherzare? Il deck più forte e il duellante più grande di tutti i tempi. Se di fronte a loro non mi sentissi emozionato, non sarei nemmeno degno di definirmi un duellante. Io credo che sia questo il mio duello di diploma. Combattiamo! Comincio io! Pesco una carta! Gioco subito polimerizzazione! E dalla mia mano fondo Burstina, Trix e Evion, eroe elementale! Vieni a me, uomo alato della fiamma, eroe elementale! Posiziono una carta coperta e termino il turno. È ovvio, Yugi, devi sapere che il mio è il deck eroe elementale. L'autentico mago nero! Cavolo che emozione! Uomo alato della fiamma! Hai ragione, Yuber. Prepara! In risposta attivo subito! Trappola nulla attacco! Appena in tempo! Straordinario! Nonostante l'aspetto apparentemente innocuo, Yugi è capace di sferrare attacchi uno dopo l'altro. Se non avessi giocato prontamente a null'attacco, me la sarei vista brutta. Lo spirito combattivo che lo anima e la ferrea forza di volontà che dimostra sono la chiara prova della sua abilità di duellante. E' il mio turno! Pesco una carta! Evoco Bubble Man eroe elementale in posizione di difesa! Attivo l'effetto di Bubble Man! Se la mia evocazione ha successo e se non controllo altre carte sul mio terreno, il suo effetto mi consente di pescare due carte! Posiziono tre carte coperte e concludo il mio turno. Cosa? Attivo la trappola! Emerge un eroe! Se vengo attaccato dall'avversario, grazie a questa carta pesco una volta dalla mia mano. Se trovo un mostro mi è consentito evocarlo. Avendo una sola carta, è con piacere che chiamo Neos eroe elementale! Esatto, Yugi. Ciascuno ha una carta che simboleggia lo spirito del suo deck. Tu hai mago nero, mentre io posso esibire Neos eroe elementale, il mio asso. Mio caro Yugi, il bello della sfida inizia adesso!